L'importante sia quello che abbiamo tolto qui la stazione per i miei su Resina, diciamo, fatta ieri, fatta ieri, nella serata tra mezzanotte e le 23 del 18 e mezzanotte e mezza del 19, quindi nel pieno senso del punto rocogliato la pattuglia ha intercettato in questa autovettura una Citroen C2 su cui viaggiava due soggetti, un uomo e una donna, già noti alle forze dell'ordine per essere soggetti debiti allo spaccio di sostanze supremacenti. Ho lasciato alcuni dettagli interessanti, soprattutto su ogni appuntamento di questa droga, che è molto, diciamo, particolare. In pratica fermano in mezzo, i due chiaramente stavano entrando sicuramente dall'acquisto di sostanze supremacenti e alla perquisizione, infatti, emerge, diciamo, appunto, il possesso di 2 grammi di procaina e 16 grammi di eroina. Dall'asana non evidenziare che questa sostanza che ha 10 dosi di cocaina e ben 84 dosi e mezzo di eroina, quindi chiaramente siamo ampiamente al di fuori di un discorso di poter di uso personale. Scusi, l'eroina di quante dosi? 84 dosi e mezzo di eroina. E 10 dosi di questo coordinativo e su 10 dosi, quindi chiaramente siamo all'ottica di un amore debole coordinativo di sostanza supremacente.